Bentornati evocatori e evocatrici quindi per il game 2 tra Africa Freaks e Leafs Embox dove gli Africa Freaks come abbiamo detto nel post partita hanno messo una bella partita anche se vogliamo vedere se continueranno andando avanti nella serie stessa. Decisamente un ottimo primo passo da muovere all'interno di questa best of three per una delle squadre più inconsistenti del LCK partire nel modo giusto è sicuramente un buon augurio ma adesso bisogna proseguire nel modo giusto mentre ci godiamo un po' di azioni di vari highlight della partita precedente prima di accompagnarci verso la dichiarazione di chi sarà il player of the game possiamo appunto fare le considerazioni del merito. Qua un early game decisamente favorito molte cose che sono andate nella direzione giusta per gli Africa Freaks prima di andare in quella giusta per Leafs Embox ma ormai un po' troppo tardi è una partita che ha giocato molto principalmente sulle tempistiche se quella 2 per 1 in corsia superiore non fosse arrivato così presto e così vantaggioso per gli Africa Freaks se quel fight all'Herald non fosse stato un fight così finemente equilibrato per poi andare a favore Africa Freaks allora poi quei team fight che abbiamo visto in seguito quello sulla corsia centrale oppure quello sulla corsia superiore con il dive di Olaf che è morto prima di poter toccare e dare l'ultimo colpo al chase avversario potevano essere la differenza che serviva i Leafs Embox per riprendersi da un early game svantaggioso purtroppo così non è stato. Come fa vedere in questo momento la legge internazionale come i player sono sempre riusciti ad avere pressione sulle lane sulle corsie così facendo hanno potuto avere totale controllo guarda qui Summit e Fate sono fuori posizione non possono fare assolutamente niente gli Africa Freaks hanno totale controllo e possono prendere senza prendere i vari torri prima che ci sia l'ingresso dell'East Embox. Già il ritmo è stato comunque abbastanza fortuito sulla conclusione l'hanno un po' stirata fino al massimo nonostante stessero arrivando in corsa dalle corsie laterali come evidenziato e comunque non è bastato grazie all'ottimo team fighting Dread e D-Bang che hanno trovato questi grandi controlli questi grandi danni ben distribuiti andando a spezzare definitivamente ormai la scena dell'East Embox che se la stavano ancora un po' giocando forse all'arrivo di questo team fight su un equilibrio gestibile ma poi sono stati spazzati via da quest'ultimo scontro. Adesso però si riparte tutto da zero con il game 2 si riparte con una draft che vedrà i side invertiti per le squadre quindi vediamo chi anche riuscirà a sfruttarlo meglio perché nella scorsa partita abbiamo visto un tentativo di counter pick per il support addirittura mi sembra che sia stata proprio Leona l'ultimo pick lasciato al Leaf Sandbox che per quanto abbia trovato dei buoni inserimenti non è stata decisiva non abbastanza mentre a questo giro gli Africa Freaks abbiamo evidenziato quella top lane per loro. Keen è un giocatore che ama giocare sul counter pick e sul crearsi match up favorevoli e in questo caso il Leaf Sandbox ha un po' facilitato il lavoro first pickando quello Gnar dal lato rosso permettendo a Keen quindi di rispondere molto preventivamente con il suo Jace. Ma in questo game potranno tranquillamente permettersi di ritardare quel pick fino alla fine della draft. Come avete potuto ben vedere il Pog sarà Dread 6-1-10 su 16 kill ha messo la firma è morto solo una volta e come è morto perché è morto nella fontana perché i suoi compagni l'hanno trollato quindi mi fa piacere vedere un jungle. Poi questa nina nana melodica su tre persone che hanno completamente spezzato il fight come avevi detto col fatto che i due si erano spostati c'è voluto una grande azione da parte di Dread per zittire i Leaf Sandbox stessi. 8 punti su 9. 8 punti su 9. Un voto a Bang molto giustificato se ridire quella solo kill quella performance individuale spesso in alcuni team fight ha fatto brillare veramente la bot lane degli Africa Freaks in generale. Ormai non parliamo più nemmeno tanto però la classifica dei player of the game piano piano sta arrivando alla sua conclusione. Ormai siamo alle ultime serie da disputare per tutti questi giocatori e quella vetta in questo momento è contesa in una sorta di duello a tre in questo triello tra Chovi a 1000 punti e Pioshike Showmaker a 900 a testa all'inseguimento. Ormai l'abbiamo detto per tutte e tre quei giocatori c'è soltanto una best of three da disputare quindi potremmo vedere una classifica decisa già nelle prossime giornate. Anche perché Chovi è tra gli ultimi a aggiungersi e se già su quell'ultima giornata riesce a prendere il distacco necessario per schippare e saltare Pioshike mi sa che sarà una lotta fino all'ultimo giorno all'ultimo best of three sicuramente. Però guarda ti dico ieri secondo me il secondo game di Hawa Life non ho voluto dare il player of the game a Chovi proprio per tenere in pista questa possibilità. Il player of the game il PogChamp venga dato a uno dei tre ancora possibilitati. Quindi io rimango dell'idea che Chovi vincerà moralmente comunque questo player of the game. Però come si dice sempre la coppa va al vero e proprio vincitore. Ma questi due team vogliono di più anzi l'In Sandbox vogliono di più vogliono lo spot per i playoff e passa tutto da questo game 2. Eh sì perché ricordi avevamo detto inizio serie il destino era ancora nelle loro mani se vincevano 2-0-2-0 le rimanenti due serie avevano la garanzia di quel sesto posto. Beh guarda un po' la prima partita l'hai già persa quindi quel sogno va già ad infrangersi e adesso volente o nolente il tuo destino dipenderà anche da cosa fanno i tuoi avversari. Non sono più unici controllori del proprio fato. Vediamo però come avanza questo game 2 perché per l'appunto si torna in draft, si torna sui ban, Seraphine, Lilia, Renekton rimossi da Leaf Sandbox, Camille e Trash per adesso le selezioni degli Afrique Freaks. Abbiamo visto un game 1 dove l'importanza di quella Lilia si è sentita in maniera abbastanza chiara quindi non mi sorprende troppo il vederla subito panchinata. Tu che hai lo schermo della previdenza Moonboy, mi ricordi quante volte ha vinto Dread con Lilia? Dread con Lilia, te lo confermo molto rapidamente, ha trovato tre vittorie in sette partite quindi nemmeno il più stellare dei win rate si aggira attorno al 40 e qualcosa per cento. Però la performance recente è quella che impatta di più, l'ultimo game quella Lilia si è fatta sentire in maniera abbastanza pesante. Gnarfer Piccati di Sandbox rimangono un po' nella 11.3. Gnar rimaneva il pick Orban, first pick Orban. Udyr invece è il pick degli Afrika Freaks. Il trittico dei jungle come si è sempre detto si basa su Ekarim, Lilia e Udyr ed il Sandbox hanno deciso di lasciarlo a Dread. Ciao, questo spingerà Croco nuovamente immagino su qualcosa come un Olaf, magari un Graves se vuole rispondere in quella maniera, ma sicuramente i campioni più gettonati ormai stanno finendo. Mi incuriosisce vedere un po' nuovamente a questo Gnarfer spiccato a cui nuovamente sembra rispondere questo Jace in maniera molto rapida di Keen. Appunto, gli Afrika Freaks non avendo più bisogno di spostare la selezione del loro top laner fino in fondo alla draft, possono conservare quella speak per qualcun altro? E qui... Buon, un bel punto di domanda perché Summit ama così tanto Gnar, ma allo stesso tempo gli Afrika Freaks sanno rispondere e sanno rispondere bene. Olaf è il pick nella giungla e l'abbiamo detto, Olaf vuole assolutamente... Ok, qui si va su Ezreal direttamente ma penso che sia la scelta più giusta. Olaf deve avere un early game in cui impatta e impatta tantissimo. Uh! 83% di un grade per Ezreal. Sì, Ezreal 10 vittorie su 12 pick. Molto popolare e... Cioè, non moltissimo popolare ma molto di successo nella sua popolarità, ecco mettiamola così. Abbiamo già evidenziato per Prince 3 game 3 vittorie, quindi qualcosa di molto consistente. Quale sarà la risposta di Bang? Arriva la Jinx, anche senza trash, non teme rivali. L'attiratrice di Zaun, mi sembra. Però... Appunto, per Leaf Sandbox stavo aspettando un po' la rivoluzione della draft perché partire con gli stessi selezioni, con gli stessi pick con i quali hai perso nel game 1 non è proprio il miglior look da mettere in campo. Quella Ezreal cambia tutte le cose in tavola perché vai a anticipare quindi il pick della Dick Henry, offrendo in quella che è stato il più grande mismatch, la più grande discrepanza del game precedente, qualcosa di molto più comodo, qualcosa di molto più favorevole a Prince di quello che si è trovato ad affrontare nella partita precedente. C'è da dire, anche Ben cambia le carte in tavola, con Jinx sarà un pochino meno proattivo nelle prime fasi di Tristana, ma forse un potenziale ancora più esplosivo nei teamfights veri e propri. Anche perché Ezreal con la sua nuova build abbiamo avuto i due di build, di quelle che mi ricordo io, ma sai che io sono un po' vecchio, quindi qualche volta la memoria ha dei problemi. Una volta si è visto con una build Mythicless anche, se sbaglio era da parte dei giocatori dei T1, vado un po' a memoria, e normalmente la build che si vede è quella da letalità, con la lama che può scuola di Drakhtar, quindi tanti danni che vengono messi. sul singolo shot quando si va con la tua Q comunque, che è la spell principale. I ban, lo continuate naturalmente, non aspettano noi che continuiamo a parlare del più e del meno, Orianna e Rell per il list Mbox, Zoe e Leona da parte di Africa Freaks. Contro l'altro Victor preso in uscita dalla seconda fase di ban, quindi ancora una volta al counter pick lasciato al supporto, in questo caso alle hands. Sì, le build di Ezra hanno avuto una sorta di evoluzione nel corso della stagione di Elsike, perché siamo partiti con ancora i primi passi mossi un po' nella season 11, quindi quando la Nientitore Divino era ancora una scelta valida e interessante per questo pick. Poi ci siamo spostati su quell'Ezra da letalità con la lama crepuscula di Drakhtar, per poi muoverci sull'Ezraal da Ezraal Mythicless. L'ultima partita, quella della giornata di ieri, ha visto Noah spingersi su un Ezraal da arco scudo immortale, addirittura. Quindi un oggetto mitico comunque tendente al danno critico per avere quello scudo bonus, per essere un pochino più safe e sicuro. Vediamo quale sarà la scelta di Prince. Il Mythicless Ezraal sembra essere quello più gettonato, tendenzialmente. Vediamo in questo caso quale sarà la sua scelta. Gragas e Syndra nelle ultime due selezioni, questo va a mettere Gragas nella corsia inferiore, nelle mani di Effort. Un suo grande comfort, ultimamente si sta affinando molto a questo campione. E Syndra per Fate, qualcosa di molto consistente per aggiungere danno alla distanza, controllo nei teamfight e sperare di poter giocare bene contro tutti quei campioni fragili che per adesso gli Africa Freaks hanno rivelato. Cosa piccherà Lienz? Quale può essere la scelta? Trash è stato bannato. Un Enchanter da mettere a fianco a un Hyper Carry. Qua si torna su un vecchio stile di League of Legends. Non puoi proteggere quella Jinx offrendola la lanterna, portandola in salvo. Mi aspettavo forse qualcosa come un Tamcanch che ricopre un ruolo simile visto che vai a divorare e salvare il tuo AD Carry a seconda necessità, ma con una Lulu Enchanter vuol dire scudi, HP bonus, vuol dire potenziali anche buff sul DPS, sull'attack speed e sul danno aggiuntivo. Ecco, questa è una duo bella e interessante, è una duo che sa un po' di nostalgia, ma è qualcosa che possiamo vedere riproposto in maniera molto particolare, anche perché Lulu ti offre in fase di corsia un potenziale di poke e fastidio, soprattutto per un campione come Gragas, che può cercare di rispondere dalla sua con i barili e con il sustain della sua passiva, ma è limitato, è pur sempre limitato dai suoi costi in mana abbastanza alti e dal essere un campione corpo a corpo anche nei suoi auto-attack. Vendiz di Gragas in questa patch è stato anche nerfato perché il suo barile rotolante è a 80 di mana per ogni rank rispetto a prima in cui saliva fino a 80, e qui sarà interessante vedere chi avrà la meglio se venga e riuscirà nella sua azione di distruzione con la pazza Jinx oppure Zeriali Pensa che era stato bannato nel Game 1 a vincere il game. Naturalmente tutte e qua, tutte le due composizioni le vedete in sovraschermo e la vostra è sempre la solita. Diteci cosa ne pensate con i vostri hashtag, hashtag AFWin oppure hashtag LSBWin. Moonboy non te lo chiedo perché ogni volta che te l'ho chiesto il team per cui tu ti fa vi perdeva. Ma no, 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 dai, no, non voglio... Dimmi, dai, parlami, dimmi la tua. No, adesso non te lo dico. No! Adesso me la sono presa. Adesso, no, stai scherzando. Beh, non lo so, devo essere sincero. Penso che io sono un grande amante di Ezreal, è stato il mio main per così tanto tempo e penso che nel meta attuale abbia uno spot molto interessante. Però sono veramente curioso di vedere questa Jinx Lulu perché è una combo che se ingrana diventa pressoché inarrestabile. Abbiamo visto già prima Bangaber una grandissima performance con Tristan e se riesce a portarsi dietro il successo del game precedente anche in questo e canalizzare quel vantaggio e partire con il piede giusto potremmo vedere nuovamente gli Africa Freaks inarrestabili. Anche perché gli altri matchup non sono particolarmente diversi. È sempre quel Jace contro Gnar sulla topside, in giungla è cambiato soltanto Udyr al posto di Lilia e forse Udyr per molti aspetti va anche a aumentare quel vantaggio in alcune circostanze, ma vediamo. Per il Leaf Sandbox immagino che la priorità sia evitare che Summit e Croco abbiano ancora una partita sventurata come quella precedente che sicuramente non ha fatto bene a una squadra. Quella Lulu Così piccolina e carina Amorevole Che poi ti fa diventare grande, grosso e cattivo Tutto quella crescita, la White Growth sarà fondamentale per tenere in salvo Bang È più una prote... Guarda che ci faccio caso L'unico tank è Dread Sì, alla fine sì, non ci sono frontline Quella Lulu aggiunge un po' di valore di resistenza bonus Però sì, in effetti non ci sono così tante resistenze dal lato degli Africa Freaks È una composizione che vuole giocare sul fatto che l'attacco sia la migliore difesa E questo a volte è vero, ma non sempre Devi partire bene per poterlo fare Altrimenti l'attacco non è nemmeno il miglior attacco a volte Vediamo un po' la situazione Prince, come dice anche tu 3-0 Effort con la sua panciata va a prendersi qualche HP da Effort E qualche CC E ora la situazione è un attimo Quella di dover attendere le fasi più avanzate di gioco Da parte la corsia inferiore Anche se, come abbiamo detto, la corsia superiore è quella che più ci interessa Perché di nuovo questo King con Jace Se Summit con Gnar È una sfida nella sfida Riuscirà questa volta Summit ad avere una meglio? Riuscirà Croco ad aiutarlo in maniera più incisiva? Oppure Dredd e Keen andranno di nuovo a dominare la parte alta della mappa E poi a far snobolare tutto il resto? Beh, per adesso queste statistiche ci mostrano comunque un ottimo setup da parte di Effort con il suo Greg 75% di winrate vuol dire grande successo Abbiamo sottolineato come questo sia ultimamente il suo grande comfort sulla corsia inferiore Ed è qualcosa che è emerso proprio durante questa Miracle Run Che gli Sandbox stanno cercando di prendere verso la zona dei playoff Sua top lane Jackin fa sentire il suo peso in questi trade Summit ha un pochino schiacciato sotto la sua torre Ma però qua nelle vicinanze per questo non si vuole forse muovere su una minaccia troppo estesa Si sa che un dive sarebbe, beh, molto rischioso Cry blocca ora Dredd contro Croco Doverranno andare tutto su Croco I danni sono tanti Il flash e il first blood viene preso proprio da Dredd Deve mancare poco per la fase e per la parte Guarda attacco alla distanza e il cambio dell'arma Ma poi alla fine Kin decide di non andare all'in E beh, e beh Ciao, ciao Croco Di nuovo E se ricordi è molto simile a come abbiamo visto iniziare l'azione nel game 1 È proprio quel 2v2 sulla corsia superiore Dove gli Africa Freaks volgono subito le loro attenzioni verso Croco Verso questo Olaf vulnerabile Oh Mama Che azione I just killed the man Continua la canzone E qui I just killed the yordle Possiamo dire Wow Beh, in realtà adesso Ufficialmente ancora meglio che il game 1 Perché se ricordi il game 1 Era effettivamente stata una kill per Kin Una kill per Dredd Ma Summit era riuscito a tradare quella kill di scambio su Kin stesso A questo giro niente del genere Anzi, Kin insiste Kin insiste sapendo di avere dalla sua Un potenziale di all-in molto importante Quando Summit è in versione mini E ora deve recuperare un po' di vita Abbiamo visto utilizzato le pozioni Per essere tranquilli e sicuro Beh Sì, buongiorno Sì, dal mattino Che buongiorno Decisamente un buongiorno per gli Africa Freaks in questo game 2 Già partire con quasi 1000 gold di vantaggio 5 minuti di partita È un ottimo, ottimo avanzamento Occhio però alla Botlin Botlin in cui si vede Effort Che sembra voler andare all-in Verrà visto anche grazie Alla farfalla di Lihens Che si era messa sulle spalle di Effort Il problema Di Gragas Con questa composizione contro Nel frattempo che Summit continua a prendersi tutto il danno in questo mondo Potrebbe andare all-in Subito aggressivo Però questo grande flash da parte di Keen Che avrà la meia di Keen Aspetta però prima di applaudire più troppo Non mi interessa Non mi interessa Può che morirci Mio Dio Che sensazionale azione su quella corsia superiore Quella è stata proprio Quella è stata una perfetta dimostrazione di come giocare Jace contro Gnar Aspetti la trasformazione Nel frattempo lo danneggi dalla distanza Giochi su range È saltato dentro L'ha lanciato via E poi ha preventivato Quello Splat Ciao Fate Salutami Fate Per favore Ciao Fate Dai trova l'uccisione Dread Era lì che ha detto Mi prendi Ci sono i miei No non ci sono i miei Dai un altro Un altro Facciamo 4 colpi di torre Per essere sicuri 5-0 Africa Freaks E da che stavamo dicendo Quasi 1000 gol di vantaggio Beh siamo quasi a 3000 adesso E non ho neanche finito Non ho neanche finito di esprimere il pensiero Che mi stava circolando tra i neuroni Questo game sta prendendo una piega ben chiara E io voglio vedere il prima possibile replay Di quell'1v1 di Kim contro Summit Perché è stato meraviglioso Il flash di Jace A letto nel pensiero di Summit È stato sensazionale Si parte addirittura con l'engage Dopo il teletrasporto Con quell'onda shock potenziata E l'auto attack finale per chiudere E qua Questo Questa è stata la bellezza Con Summit in trasformazione Che aspetta il momento giusto Ma Kim che gioca con il range Gioca con la visione E appena si tuffa in avanti Lo rispinge indietro Salta dentro Flash a fuori dallo stordimento E garantisce la chiusura sull'uccisione E poi Io già qua ero pronto a dire Vabbè non importa Puoi anche morire Il tuo l'hai fatto Ma Kim continua a sorprendere Schiva la prima ascia Si porta verso la salvezza Schiva la seconda Croco si prende un copritorre E guarda chi arriva Se non Dread Kim si ributta dentro Riesce persino a lastitare Lui stesso l'uccisione Questo Jace adesso ha 3 kill dalla sua Questo Jace ha 3 kill a 6 minuti Questa situazione sta diventando Non problematica Molto di più Molto di più Vabbè poi abbiamo visto Come il potere senza limiti E la tempesta del caos Hanno fatti il loro Il loro corso Fate ha provato a rimanere in lane Ma non si immaginava l'azione Da parte di Dread Poi di nuovo Bear Slap E Capo gravitazionale Permettono di trovare Una facile uccisione Sulla Mid lane Dei list Sandbox E Guarda Un Doran shield E una E una Una blade E una spada di Doran Per Slunco pugnale seghezzato E centro vampiro Ok E Croco Nuovamente stava cercando Di affacciarsi Sulla corsia superiore Ma spottato dal Dal germoglio di divinazione Di Dread Vediamo Con anche roaming di Fly E li hands persino C'è molta pressione Attorno a questa zona Della mappa Tipicamente Attorno all'ottavo minuto Sullo spawn del messaggero I jungler Ma anche i supporti Volgono la loro attenzione A quest'area E vediamo In Sta già scendendo il fiume Per dirigersi a questo scontro Vanno subito anche Per lo sfinimento Su Fly Che deve scappare Lì al da parte Di hands Per salvare il suo compagno Tempesta del caos Che allontana Croco e Fate Che hanno utilizzato Anche loro Le loro summon spell Infatti vediamo Il ghost Utilizzato da Croco E' già utilizzato in precedenza Le sue summon spell E quindi Di nuovo Freak Freaks Che hanno il controllo Il primo Herald dalla loro Già Leap Sandbox Sono tuffati in avanti Ma questa volta Non trovano nemmeno il teamfight E ancora una volta Ha pattern molto simile Al game 1 Perché gli add carry Prince sta venendo a muoversi Bang era rimasto in botlane A farmare Poi Prince è tornato Sui suoi passi Perché ha capito Beh non ci sarebbe stato Nessun fight A cui poteva cercare Di partecipare Ma comunque Nel game precedente Almeno leap Sandbox Ne erano usciti Con un uccisione Da quella schermaglia Qua niente di niente Freak Freaks Raccolgono tutto E l'unica cosa È che Bang Non prende il via In Subito aggressivo Col beer snap Dredd Trova l'uccisione Ora Summit deve capire Da che parte andare Beer snap di nuovo Con il flash La zona Era sotto torre Trovo la kill Grazie Alla fenice Ma Dovrà morire E questa non è una bella cosa Perché 150 gold in più In mano Al top lane Nel di Sandbox Sai cosa Penso che la taglia Si è arrivata in realtà Dopo La morte di Dredd Perché la taglia ci mette un pochino A generarsi E Dredd è morto istantaneamente Dopo aver trovato l'uccisione Quindi temo che quei gold bonus Non siano nemmeno stati incassati Qua voglio sottolineare principalmente La differenza in quattro livelli Tra Keen e Effort Il che giustifica molto bene Quello shock plus Che nonostante Keen Ancora sia ben lontano Da avere anche un singolo oggetto Ha tolto Tipo il 40% Delle barre degli HP Di 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 Gragas Lasciandoli in fin di vita Infatti si guarda Quella taglia è ancora lì Dredd Non cede gold bonus Sono ancora da contendere Siamo a 3000 gol di vantaggio E guarda come sono ben collocati 1700 Di quel vantaggio E nelle tasche di Chase E ora però arriva la domanda giusta Quanto riuscirà a snobollare Sul suo diretto avversario Almeno L'abbiamo visto snobollare Quindi c'è poco Da dire Ha le eclissi dalla sua Mentre dall'altra parte Ci sono solamente Le scarpe che danno armor E Questa è Non è una bella cosa Se siete Un Gnar Contro Un Jace Però Chi deve riuscire a snobollare bene Non snobollerà bene Allora Potrebbero esserci dei piccoli problemi Poi Andando avanti Nel mid game È stata che arriverà Quindi Placke che andranno a finire Nelle tasche Di Dredd Lei comunque continua Nella sua fase Di dare noia Fastidio Avendo anche della sua La pozione della corruzione Può subire anche un po' di poche Dall'avversario Già Fastidio è proprio la definizione Perfetta per adesso Ma presto quel fastidio Inizierà a scalare E diventare Una vera e propria minaccia Quella Victor sappiamo I team fight Sono il suo territorio Team con due livelli di vantaggio Contro Samy Ma lo stava Stava Flash Cosa Da parte di Che continuo a fare male Shock Blast Dall'altra parte White Girls Per salvare Fly Lì Continua Super Mega Nazzurna Per sé Boom Che va a prendere Il nemico E ora continua La sua Efforta Doppia Eccisione Per Bang E Questa Non è una bella cosa Ma che sia Che Prende in largo Allora Signori Si può Solo Detinire GG Siamo 10 a 1 Per gli Afrika Pricks In questa Partita A nemmeno 12 minuti Di gioco Siamo quasi A 6.000 gold Di vantaggio Questa cosa Non va bene Quello che Kino Appena fatto a Samy Sulla corsia superiore Sembro io Quando vengo Autofillato Toplane E mi trovo davanti Uno Smurf Diamond Che mi guarda E dice Ah Tu non sai Che io in realtà Adesso posso ucciderti Però io posso ucciderti E te lo ricorderò Come? Uccidendoti più volte Daivandoti sotto torre Inseguendoti Fin sotto la tua seconda torre Non c'è Zona franca Non esiste Zona franca Per quello Gnare In questo momento Summit è Una marea Di CS sotto È due livelli Sotto il suo avversario Guarda i danni Che Kinn propone Semplicemente Scende sotto torre Si prende un paio di colpi Non gli importa nemmeno Flash Ti flash dietro Questa kill Ormai è garantita Non c'è niente Che Summit potesse fare Per portarsi in salvo Mio Dio Che violenza E poi Com'è successo Tutto quello invece Sulla corsia centrale Perché Fly inizialmente Era in pericolo Quello l'abbiamo visto Un barile esplosivo Che però Non lo trova Non lo spinge Verso i suoi alleati E le hands perfetto Sul save I danni dalla distanza Esattamente quelli Che vorresti Perché poi arriva L'ulti di Jinx Per l'astitare Fly che tra l'altro Sopravvivi con un bricio Di HP All'ulti di Ezreal Invece è un po' Un tilter E mancava soltanto Bang Mancava soltanto Che Bang Raccogliesse un po' Di uccisioni Un po' di risorse Arriva Prende la double kill Se ne va via Dice grazie mille Ci vediamo più tardi Team fight prossimo Tra 5 minuti Ok ci sono Questa sta diventando Questa serie Sta diventando Un po' stretta Per gli Africa Freaks E ora qui arriva Però una domanda Che vedi Africa Freaks Giocare così bene E dici Quando e perché Red scappa Ora arriva subito Anche il potere Senza limiti Tempesta del caos Fate morirà E ora la forte croco Sono in difficoltà Arriva Dredda E chiude Ragano che ha trovato Il barile esplosivo Per salvarsi Sarà abbastanza Riuscirà A chi non ha Trovare la kill Sul suo avversario Potrebbe essere così Ma summit lo blocca Arriva subito I suoi compagni Tra uno la kill 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 In questo caso E lo shut down Di represso Summit Che poi viene abbattuto Beh Shutdown su Jace Quattro uccisioni Ehm Non lo so 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 Sono convinto 7000 I gol di vantaggio Adesso tra le squadre Rivediamo che una volta Partito tu tra l'altro Con Dread Passo di danza Appena visto quelle silhouette Con la lama dell'oracolo Nel cespuglio Con la lente dell'oracolo Uah No niente da fare Mi porto via Verso la salvezza E già questa prima kill Mi ha fatto capire Qual era la progressione Del team fight Summit se non altro È riuscito a inventarsi Quei buoni danni Quei buoni ingressi E Per il live sandbox In fuga Gli adcari Nemmeno partecipi A questo scontro Beh Si tratta soltanto Di concentrare Tutto il tuo foco Su un singolo bersaglio E sperare che basti Perché È una kill che hai pagato Con 4 morti Dalla tua Ma probabilmente Sono 4 morti Che gli avversari Sarebbero comunque conquistati E rischiavi di non prenderti Nemmeno quella kill Quindi Aia Questo game sta diventando Io Stiamo raggiungendo Io lo sai che Io lo sai che Ho questa Ho questa policy Dove Quando vedo 10.000 gold Di vantaggio sul tabellone Io Chiamo Ora della morte Il game è finito E il paziente Non ce l'ha fatta E Mi spiace Il resto è soltanto formalità Il resto è soltanto chiudere la partita Gli Afrika Frinks Ci stanno arrivando A tempi record Per adesso siamo Cosa sono 8.000 E spiccioli 8.400 Ma guarda Un altro paio di teamfights Si potrebbe arrivare a quel 10.000 E Oh no Io Cosa 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 devo dire Spiegamelo a te per favore Cosa devo raccontare Io come play by play Quando vedi Summit che va Overcommitted Sull'avversario E c'è Dreadley Che dice Ah non c'è ward Ok Trovo la kill Ciao Penso che la prassi Già il fatto che Non scoppi a ridere È dimostrazione Della tua capacità Nel senso Perché è difficile Controllarsi in questi casi Non è Non è qualcosa Di particolarmente piacevole Da vedere Per i fan De Leaf Sandbox Se non altro Dall'altro lato È un po' Sì Beh Ridiamo per non piangere Mettiamola così Secondo Erad Preso da Dread T1 Presa sia top Che mid Sono Tre Tre livelli di differenza Forse Due e mezzo Oh Voglio aiutare Ma Ecco Questa è la situazione Quando vedi Che Summit va all in Non avendo informazioni Della posizione Dread Poi è lì fermo Chi dice Aspetta Dai Non mi fai ridere Un boy Per favore Io mi faccio ridere Guarda quell'azione Come fai a non ridere Dread Spirito della morte Incarnazione della distruzione Vediamo se Summit Riesce a mettersi E guarda Un uomo Chi arriva Salve Ciao Ciao Summit Come stai? Svegli grazie la morte Tanto per aiutare Un po' di happy fit No 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 Vabbè Oh mio dio Mi ricordo Le mie ranked Con Gnar Tra l'altro Vorrei far notare Il fatto che Summit ha cercato Di aggredire Bang E Bang Aveva un livello Di vantaggio Nei confronti di Summit Qua Non ci siamo Non ci siamo Abbiamo visto Devo dire La giornata di oggi Non è stata particolarmente Clemente Verso i top laner Abbiamo visto del bullismo In entrambe le serie Non questa cosa Non va bene Però Però in una Almeno ha portato La vittoria Sì In questa Vedi ballare Vedi Dai Ah e tra l'altro Siamo a quei Siamo a quei 10.000 Quindi Sì Ora della morte 13.03 Leaf Sandbox Ufficialmente defunti In questa partita Africa Freaks Pronti a Chiudere la pratica E Spedire Il cadavere all'obitorio Drago che verrà preso Senza problemi Dai ragazzi Africa Freaks Africa Freaks Dammit se la può fare Solo contro il support E non ci riesce nemmeno Sì Avrei avuto Quasi paura Di vederli hands Voltarsi E rispondere all'1v1 Però Per fortuna Non siamo ancora A quei livelli Ecco La differenza Si può ancora reggere Almeno Beh li hands Non è che abbia ottenuto Tutte queste risorse Nella partita Quindi immagino Rivedremo ancora una volta La scena Oh mio dio Nuovamente con La regia I tours Oh no 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 Vabbè Oh però attenzione Summit rischia Ma rischia anche Fly Subito Fate Che trova Col disperdi il debole Subito Con il potere Senza aiuti Super meganazzo della morte Non troverò la kill Ora Fly è da solo Il flash Barile esplosivo Finalmente Una serie di uccisioni Per il list Handbox Una risposta Ma con l'hai il prezzo Da pagare Perché Ragnarok No Ok va bene Scusate Ho sperato troppo Scusatemi Quando vedi tutte quelle uccisioni prese Tu hai visto Meteor Mother Si Hai presente Il racconto Che fa Mi sembra sia Lily Della Cagnolina che aveva Che tutte le volte faceva La bella scena E allora Dov'è la pupù? Ah è bene Si 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 Perché Perché sto vedendo Delle kill Qual è la fregatura Dov'è la pupù Lips Handbox E poi guardi la corsia centrale E vedi Jinx e Udyr Che dai Van Olaf Si portano a casa la kill Guardi la corsia inferiore Vedi Jace che distrugge Una torre interna E tira avanti Col messaggero della landa Dici ok Adesso capisco tutto Adesso capisco Dove sono uscite queste uccisioni Hai mandato quattro persone Sulla corsia superiore A ucciderne due E il resto della mappa Ha più buchi di un groviero Ti faccio una domanda allora Ti è piaciuto il finale Di Aumitio Mother? A me si Personalmente si Io sono un grande amante Dei finali controversi Aumitio Mother mi è piaciuto Lost mi è piaciuto E Lost non l'ho mai visto Lo sai? Male Molto male Lost perché ero piccolo io E Ancora più piccolo di me Però quando uscì Lost Non mi piacque E poi era il periodo Ti ricordi quando dovevi Seguire la tv sempre a quell'ora Alcune volte Allenamenti Sport E quindi perdivi la puntata E io mi seguo a fare Sì 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 Lost è stata la nascita della serialità Se sei partito con Lost Se avvi l'opportunità di seguirlo ogni volta È stata una delle migliori esperienze Io non l'ho seguito in diretta L'ho recuperato al liceo E ti consiglio di recuperarlo altrettanto Perché adesso che abbiamo l'opportunità Con servizi di streaming e quant'altro Di poter seguirlo a piacimento È un'esperienza che ti cambierà un po' la vita Te lo prometto Come sta cambiando la vita Ai Africa Freaks Il fatto di vederli così avanti Che Non lo so Cosa vuoi dire Prince Guarda quanti HP perde No vabbè Io ho già dichiarato la morte del paziente Qua per me Stiamo soltanto Stiamo soltanto riempiendo le scartoffie Per il trasferimento della salva Guardano la kill su Fly Forse Potere senza limiti Infatti è così la kill Ma subito Super mega raggio della morte Da parte di Bang Flash da parte di Dread Per riuscire a scappare Ancora non è stato utilizzato E la crescita selvaggia Provano a fregare il blu Fate se lo assicura Beh per quanto in queste schermaglie Si possono vedere dei trade uno per uno La Gold Ritz si sta sempre mantenendo Adesso addirittura quasi sulle 11 minuti E siamo a 21 minuti Anche se sotto visione Gli Africa Freaks marciano sul barone Perché il loro DPS Con Jinx e Jace è molto minaccioso Però Dobbiamo stare attenti a non soffrire troppo Il tradeback avversario Summit è in botta insieme al teletrasporto Potrebbe unire la squadra se necessario Mancava ancora un po' A respond di Fly Forse non vogliono rischiare troppo Direi che comunque con il vantaggio acquisito Fino a questo momento Basta trovare gli Africa Freaks In una situazione di teamfight vantaggioso E non con Fly Che viene piccato in solitare Nella top lane Non nella giungla E Non sarà complesso Chiudere quella pratica Per l'appunto Rivediamo ancora una volta A quest'azione Perché per l'appunto Il vantaggio che hanno trovato Il Leaf Sandbox qua È che Fly stava camminando Per la giungla oscura Si è trovato stordito da Syndra Lanciato da Gragas E abbattuto Quindi dai danni conclusivi Ma comunque Il Superman garage della morte Ha dato una kill credit a Bang Che forse È anche uno dei migliori recipienti In questo momento Visto che Sta già viaggiando Verso il suo terzo oggetto Con questa Jinx E rischia di diventare Una vera e propria minaccia Una volta da dire È il fatto che Nella corsia inferiore Hanno Neia di carry Se non fosse per le kill Naturalmente Più o meno risultata La pari Perché Parliamoci chiaro Il farm è lì Le kill Sono Due kill E due assist in più Però Poi per il resto Siamo lì Prince sta provando A tenere A gala Questa partita Lo so Che tu non sei contento E per te sono morti Però Però Sì Sì A gala Devi sempre un po' Aggiungere il contesto A gala Perché se sei a gala Dopo Magari aver subito Un naufragio Dici bene È già qualcosa Vuol dire che non sei Affogato Però in questo caso Mi sembra che I Lipsham Siano più a gala In una circostanza Dove il contesto è Una gara di nuoto E lì non basta Essere a gala Gli Africa Pricks Ormai stanno Andando a doppiare Le vasche avversarie Ciao Fly Salutiamo Fly Tranquilamente Qui arriva subito Dread che lo può aiutare Fate Prende l'uccisione Subito Lognar Dread trova la kill Morirà forse Lihence Forse si salverà In qualche modo Arriva anche Jinx Ad aiutarlo Wild Grove Riesce a salvarsi L'ultima di Prince Che prende l'uccisione Ora però Deve utilizzare Lial Per salvarsi Perché sa che c'è la possibilità Super mega Ragazzi della morte Top decisione Due per quattro Di cui uno è il support E l'altro è Fly Che si sta divertendo A tenere Ancora le morti alte Per lui Sì Fly sta mantenendo Sta giocando un po' Sul mantenere alte Le speranze del team avversario Diciamo in questa partita Espanendosi un poco Prince vorrebbe affacciarsi Visto che Dread non ha lo smite Fuori dal cooldown Ma Oh Flash Il danno Del red buff Ha livellato Ha livellato Assurdo Vediamo se Kim lo va a cercare No non può trovarlo Non può trovarlo Baron è però conquistato Per gli Africa Freaks E qua Si riparte Da Vicino a 14.000 Gol di vantaggio Per quanto Fly Ancora una volta Esposto In maniera abbastanza Liberale Su questa corsia superiore Vittima di controlli La chiusura Dei suoi compagni di squadra Questa volta Hanno senz'altro Se non altro Garantito Un tradeback Più che efficace 2x4 È comunque uno scambio Che Con questo vantaggio Potresti permetterti 4x0 5x0 A destra e a sinistra Gli Africa Freaks Stanno comunque Un po' Giocando Sull'inesattezza Giocando un pochino Con il cibo Però D'altra parte Finché il vantaggio Continua a crescere Finché continua a portarti A casa obiettivi Sono pur sempre cose Che puoi permetterti L'abbiamo detto Questa è Una serie Che per gli Africa Freaks Significa voler Almeno chiudere la stagione In bellezza E se non è in bellezza Chiuderla così Da solo contro 2 Anzi contro 3 Riva anche il teletrasporto Dread prova a scappare In qualche modo Il flash di Summit Riusciranno a trovare L'uccisione Barile esplosivo Anche utilizzato Ora Dread Proverà a scappare In qualche modo Sono tutti lì da lui Ma la mid lane Intanto Meanwhile On the mid lane Era famoso Anche dal punto di vista Proprio di League of Legends Quest'azione qui Super mega razzo Della morte Vediamo se riesco a dire Velocemente Ma scandito bene Permette A Bang Di avere un Plus in attack speed Così da prendere Torre inibitor E torre in corsia superiore Ok Già Già Inizialmente voleva essere Un'introduzione sui recall avversari Croco Per caso era in quel cespuglio Se l'hai trovato in faccia E ho detto Cosa sta succedendo Perché mi stanno sparando addosso Però sì Un inibitore abbattuto In maniera anche abbastanza semplice Capitalizzando Sul focus dei Leaf Sandbox Ai danni di Dread L'abbiamo visto I Leaf Sandbox Non è che non stanno trovando niente In questa partita È che stanno sempre trovando qualcosa Che apre Il team avversario A trovare di più Sono purtroppo Gli scambi che devi fare E che non puoi permetterti Di non fare Quando la differenza È così pesante A.k.a. 13.500 gold Mi fa ridere Mi fa ridere Troppo lì Che sono lenti Poi della serie Ragazzi Io sono grosso Posso fare Tutto da solo Lulù che split pusha Che gonfia il petto Che fa La voce grossa Sì Fa un po' sorridere Visto che è quella mano Del barone Comunque beh Basta metterci una persona E funziona Ma adesso il focus È sulla corsia superiore E adesso che gli Afrika Freak Sono anche un pochino Più raggruppati Immagino che potremmo Forse anche vedere Il team fight Un po' più netto Che questa squadra Stava cercandola un po' Per far valere Tutto quel vantaggio Che hanno dalla loro Dread riesce a stare Dietro a Summit Summit Mette del danno Ma non sarà Ancora abbastanza Summit non è nemmeno Minimamente la sua versione Mega E quindi Dread Può un po' Bulleggiare l'avversario Super Mega La zona morte Che non va a segno Sfortunato in questo caso Bang Ma comunque Ora La mano del barone Finirà E potrebbero provare L'aggressione I giocatori Infatti arriva Wild Growth Da parte di Fly Barile esplosivo Che però non divide La squadra avversaria Effort con veramente poche HP Fly prova a funzionare Subito Summit Presi però Ammazzati Della parte o dall'altra Doveranno la vita Di Lee Hens Ma moriranno Uno dopo l'altro Tutti i giocatori Dell'E Sandbox Remare soltanto Fate In base Ma con la tripla uccisione di Bang Questi Minim che arrivano Dalla corsia centrale Credo che questa sia La fine dei giochi Fate non può difendere Le sue strutture Abbiamo parlato di voler Finire in bellezza E cosa c'è di più bello Di un 2-0 Andando a spezzare Ancora di più I sogni dei playoff Di un avversario Con una gold lead Che supera le 15.000 unità Con una serie Da parte di Bang Che tra Game 1 E Game 2 Ci regala Emozioni Sensazionali Africa Freaks Sbaraglia Ne Lee Hens Sandbox GG per loro 2-0 Che gli permette Di Non essere ultimi In classifica Speranze Per loro Sicuramente Bisogna vedere Se quelle speranze Possono vedere Almeno Per i KT Anche una singola vittoria Anche perdere 2-1 Sarebbe comunque Qualcosa di Utile Perché poi puoi Cercare di mettere Le tue uova Nel paniere Dei Freddy Brion Fare il tifo Per i bro E dire Dai bro Stompati In Onkshim Dateci quel vantaggio Anche se non In match score In game score Che in questo momento È praticamente paritario Tra i due team E permettetici Di fare quel passo In avanti Lee Hens Sandbox Che A questo punto Devono sperare Nella sconfitta Sia dei KT Che dei Onkshim Per poi Battere i di Arex Domenica Per soltanto Raggiungere A level di match score Ma non so se questo Passerà a level di game score Bisogna vedere anche lì Le sconfitte Dei KT E dei Onkshim Se dovesse arrivare Come arriverebbero Essere Meno 9 Meno 9 Meno 11 Meno 13 Anzi ora per Lee Sandbox Dato che hanno perso da 0 Perché Se ti ricordi bene Dovevano essere 2-0 2-0 Ed erano sicuri Dei playoff Già Meno 11 Quindi Gli avversari Sono a meno 8 Devono sperare Che perdono 2-0 Pure Sì E loro vincere 2-0 E loro vincere 2-0 Per forzare Per scavalcarli Altrimenti È dura È dura È dura E domani immagino Che avremo già una risoluzione Con questo risultato Con gli Afri Caprix Che infliggono già Questo danno E leap Sandbox Domani Con una sconfitta Dei KT E una vittoria Dei Onkshim Avremo già Il nostro sesto team Confermato Avremo già I Onkshim Che alloccano Con la sesta posizione E avremo quindi La giornata finale Soltanto per Distribuire un po' di divertimento Visto che tanto ormai I sei team sono confermati L'ordine è confermato I team possono fare Quello che vogliono È pratica È allenamento Ma è anche Un matchup di soddisfazione Che nessuno si deve perdere Perché domenica È la prima serie A One Life contro T1 E quello Io ve lo dico Potrebbe essere Ciovi contro Faker Io non me lo voglio perdere Infatti sarò qui a castare Anche la domenica Ma Non so voi Non so voi L'hai fatto apposta Ho fatto spuntare io Il dente del giudizio A Walcott In realtà L'ho sabotato Per avere il diritto Di castare Faker Contro Choi No ovviamente no Anzi Passate da Walcott Fatemi un salutino Chiedetevi come è andato L'intervento Che oggi si è Appunto operato Al dentone Questa settimana Per il resto Delle giornate A riposo Lo rimpiazzo io Moonboy Che fa da bravo Paparino È lì Che tiene Coperto Il ragazzo Il giovinciello Parlando ancora di questa serie Ecco Qui Arriva la mia risposta Faker Riuscirà a performare Sotto pressione No O almeno Non è totalmente Colpa sua È quello Gnar Che È stato sempre Fast piccato E gli Africa Freaks Ci hanno giocato intorno Meravigliosamente Keen Ha fatto vedere Di essere il maestro Dell'uno contro Uno contro Gnar Questo Questo Keen Ha dato delle vibe Molto 2018 Ecco Era un po' Di quando si vocifrava Quando gli Africa Freaks Giunse nel mondiale Si vocifrava che Keen Fosse in gara Tra i migliori top laner Al mondo Ovviamente poi Quel mondiale Fu anche La La nascita Diciamo Del piccolo Nel breve Dominio LPL Con The Shy Che stava distruggendo Chiunque si trovassi davanti Quindi Aveva sicuramente trovato Il degno avversario Però Beh è un grandissimo ricordo Questo Jace Una grandissima performance In questa serie Sia game 1 Che game 2 E Come evidenziato È un po' strano Vedere l'Ipsandbox Dare così tanta Fretta Alla selezione di Gnar In draft E meno priorità Magari al counterpick Soprattutto Visto ed evidenziato Quanto Summit e Croco Sono importanti Per il successo Di questa squadra Li hanno demoliti Sia game 1 Che game 2 Il top jungle Degli Africa Freaks Hanno fatto una partita Sensazionale Dread Una bellissima serie Da parte sua Sia prima con Lilia Che adesso con Udyr Veramente fantastico E per quanto Ci avevano un po' provato A più riprese Per quanto Prince Si è rimasto a galla Con questo Ezra Allora l'abbiamo detto Non è un rimanere a galla Che ti aiuta poi A vincere la gara Perché Gli Africa Freaks Stavano Erano partiti a dorso E stavano macinando Bracciate Gli azioni Dove 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 Avevano provato I sandbox A De-pushare Comunque Al counter Ingaggiare Amit Ottimo Gnar Troppo poco Troppo tardi Eh già È stato un bel ingresso Per carità È stata una bella ultima Ma ha lasciato Liberi Bang E King Di distribuire Il loro danno Ad area E Quei lips Enbox Con tutto quello Svantaggio In gold E risorse Quindi che si era Accumulato Tra loro e L'avversari Si sono sciolti Sotto la loro Stessa torre Dell'inibitore Conclusione Netta Rapida Bang L'abbiamo detto Penso non sia morto Nemmeno una singola Volta Nell'intera serie Due game Sensazionali Prima con Tristana Poi con Jinx Sicuramente È un Modo piacevole Di chiudere la stagione Anche se Non arrivare ai playoff E riprovarci in summer Salute Prost Chers Santé Da parte di Keen 22.700 Danni Solo Unicamente Mettendo Gnar Con Sindra Si riesce I due Top dealer Ad avvicinarsi Anzi Ad essere superiori A lui Però Vedere 22.7 19 11.8 13.2 Quando Il jungle Avversario Ha fatto solo Quei 7.000 Danni Dici Va bene Ok abbiamo Cattato La situazione E tra l'altro E tra l'altro È un Olaf Contro Udyr Dovrebbe essere Olaf A fare più danni di Udyr Udyr è il tank Com'è che ha fatto così Tanti danni No L'abbiamo visto Più volte In entrata Sembrava entrasse Quasi in scivolata Sugli avversari Invece che gli schiaffi Tirava direttamente I calcioni In forma d'orso I dropkick In forma d'orso Era veramente difficile Bloccare l'avanzata Di questi Di questi Afrika Freaks Dread Grande serie Se devo lanciare Comunque la mia previsione Per il periodo Of the game Penso che a sto giro Andrà a Keen Che ha avuto Veramente un Laning phase fenomenale Ha solo killato Due volte il suo Avversario in corsia Con dei passi di danza A dir poco strabilianti Veramente una gran bella partita Da parte sua Ma da parte dell'intera squadra Come una gran bella serie Per questi Afrika Freaks Che possono ritenersi contenti Di aver almeno chiuso In bellezza la stagione E aver reso Un pochino più difficile La vita dei loro avversari Nella gara ai playoff Quello è sempre uno sgambetto Che ti fa piacere Infliggere Quando tu ormai Non hai più niente da guadagnare Ma puoi togliere agli altri Mi hai fatto troppo ridere Pensando a Udyr Che invece di Tirare manate Tira dropkick Sì Ho avuto troppo in mente Le scene del wrestling Della mia gioventù Quando vedevi gente Tirare dropkick A destra manca Io Di già i set Che ti ricorda molto Una mossa speciale Che nominiamo Alcune volte Nel gioco Poi metti anche questo E io ora sto pensando Troppo Al league of legends X wrestling Il crossover Che si unisce E basta Vabbè Un crossover Molto ambizioso Attribuire A un wrestler Un personaggio League of legends E viceversa Sarebbe Sarebbe interessante Da studiare Ma Per noi Degli appuntamenti Così Crossover Wrestling League of legends Però Sì Anche perché Che è un mostro Che si è un mostro È un mondo Che si è un po' Toccato Se non vado errato Cioè Cesaro Della WWE Che ha avuto Diverse interazioni Con l'LCS Quindi è effettivamente Un mondo Che è entrato in contatto L'uno con l'altro Però per noi Amici del grande wrestling Qua questa giornata Si sta andando a concludere Un altro Crossover Ecco Va bene Con la seconda serie Con la seconda serie Beh La giornata Si sta andando a concludere Adesso aspetteremo La nominazione Del player of the game Che come ho già detto Per me la top lane Dell'Ipsenbox Si merita Anche perché Già il game precedente Aveva avuto una gran bella performance Ma Dread giustamente Si era portato a casa Il trofeo Mi dispiacerebbe un po' Che Bang Non prenda Non prenda Delle vere Onorificenze Perché Penso che abbia fatto Veramente una serie Fantastica Senza morire Con un damage output Consistente Un carry potential Veramente Che ha aggiunto tanto Al valore della squadra Quindi Vediamo questi primi replay Solitamente appunto Quelli che vanno a evidenziare Un pochino le mosse Più macroscopiche La visione Delle due squadre E Game 1 Croco Veramente tanta fatica A inserirsi Nell'interventi Sulle corsie Della top lane Game 2 Stessa storia Tutto guardano anche La vita La differenza di HP Fra Dread e Croco Non l'hanno visto Con quella world Si l'hai visto Infatti Croco L'aveva visto E qui Dread Che Tu pensi Via Ora in questo momento Dread è ritornato lì Farà Il suo Giorgio Comunque E il suo scatto E poi Ci sarà il recall Da parte di Croco No invece è rimasto lì E guarda Uno Fenice Gli output Con Keen Che si era posizionato Meravigliosamente E qui Puoi fare ben poco Qui Puoi solamente Della morte E tra l'altro In tutto ciò Jace aveva pure mancato La sua onda shock Figurati se Quella avesse colpito Avesse colpito Croco Probabilmente non c'era Nemmeno bisogno Di fargli flashare Dread dietro Quella era una circostanza Abbastanza spinosa Da gestire E il fatto che Croco abbia scelto Di rimanere Dopo aver visto Due volte E cancellato due volte Il proprio recall Sui movimenti di Dread Ti fa capire Che il decision making Comunque di Leaf Sandbox In questi trade Di 2v2 Non si erano aggiornati Molto bene dal game 1 Dove forse Udyr Ai primi livelli Può essere anche Più minaccioso Di una Lilia Che ancora non riesce Ad accumulare bene Il suo danno Mentre Già con la forma fenice Con lo stordimento Dell'orso Ti aggiunge non poco boost Alla combo di Udyr Qui continuano a farci vedere Le posizioni di Dread Che di nuovo Arriva lì E dice Ok ragazzi Cosa bisogna fare Devo far sdobolare Keen E quello che faccio E di nuovo Qui Vedi Keen Che riesce poi Nella giocata Come abbiamo detto in precedenza Magnifica da parte sua Proprio Manda via Poi entra il flash Per scappare Ma era lì Croco E era lì Dread Scusatemi E anche Croco infatti E subito Va ad aiutare il suo compagno E Dread Tra l'altro L'ha fatto Evitando completamente La visione avversaria Perché c'era quel lume Lammabecchi E Dread Ha fatto il giro lungo Andando sui Krug E poi girando Oltre la tana Della Maggiori benefici E un early game Decisamente Navigato Da parte sua Ora con queste azioni Evidenziate C'è forse ancora Una parte Un po' più grande Di me Che vorrebbe dare Anche a Dread I giusti meriti Per questo game 2 Perché I suoi inserimenti Sono stati decisivi Però Quel Jace Due solo kill Contro Gnar E uno stile Che stile Nel portarseli a casa Veramente Non voglio altro Eccolo lì E' normale Ed è giusto così Che se la prenda Proprio Kinn Dopo che il game 1 L'ha presa proprio Dread Quindi Il duo L'avevamo detto in precedenza Croco Summit Contro Kinn e Dread Chi avrà la meglio Ed è giusto Allora in questo caso Darla proprio Alla duo Jungler Top Per come hanno dominato Questo matchup Prima Lilia Jace E poi Udyr Jace Ciao Questo player of the game Piazza Kinn In uno spareggio Il momento Per il quattordicesimo posto E trattandosi che Questa è l'ultima Best of 3 Degli Africa Freaks Si fermeranno lì Dread 700 punti Con anche quello di prima Spareggio per il sesto posto Nella classifica Player of the game Adesso che stiamo concludendo Le serie Sono notando anche Alcune cose interessanti Per esempio I Gen.G I Gen.G sono Hanno giocato prima La loro ultima serie E hanno 4 giocatori Con 600 punti E uno a 500 Sono il team più Equilibrato Dal punto di vista Dei player of the game Che ci sia Nell'LCK Bastava che facessero Magari una vittoria in più Con un player of the game In più a life E sarebbero stati Tutti i 5 A 600 punti Che equilibrio Che bilanciamento Tra questa squadra Non c'è nessuno Che è Elohellato E che gioca molto bene Ma non riesce a trovare Le vittorie Non c'è nessuno Che si fa carriare Questa è una squadra Dove tutti e 5 I giocatori Sanno performare A livello Dal loro richiesto E sanno essere Il care della partita Quando ce n'è bisogno Questo è veramente Bellissimo da vedere Anche e soprattutto In vista dei playoff Perché là Si che ci sarà bisogno Di carriare Ma per gli Africa Freaks Questa serie purtroppo È un saluto Per loro fino al Summer Ma ci hanno dato Una bella festa d'addio Hanno dato sicuramente Una bella festa d'addio Ma sicuramente Hanno fatto iniziare Molto bene Questo fine settimana Perché ricordiamolo Il mondo di League of Legends PG Sport Non finisce Oggi Qui Ma finirà stasera Con I playoff LCC Ebbene si Si parte Infatti a che ora Ricordamolo Perché sai Io con le ore Sono un po' messo male Se non va adorato Dovrebbe essere alle 18 Ma ti faccio un check Rapidissimo Sì Oggi alle 18 Si parte con la prima Best of 5 Fnatic contro SK Abbiamo quindi Finalmente accesso Alle best of 5 In una regione competitiva Noi purtroppo Dovremmo aspettare Settimana prossima Per arrivarci 10 settimane Stagione regolare Nel CK Ma ovviamente La settimana di LCK Non finisce qua Perché abbiamo ancora domani E abbiamo dopo domani Così come LEC Appuntamento fisso Oggi domani Dopodomani Mattina LCK Pomeriggio LEC Non vi potete perdere Neanche un briccio di azione Perché siamo arrivati Le fasi finali E il resto Si andrà a decidere Chi vedremo arrivare All'MSI Chi andrà qui Nel Reykjavik Lo scoprirete Strada facendo Grazie a noi di PgSport Un saluto Dai TrurionX E Moonboy E grazie per essere stati Qui con noi presenti Vi aspettiamo Sempre la mattina Su PgSport Con LCK E per questo lungo weekend Anche pomeriggio Con LEC Con LEC Un saluto La banca Un saluto Con LEC Grazie a tutti. Grazie a tutti.